Non potete capire, voi non potete capire, ho appena perso dieci anni di vita in dieci minuti, terrore, paura, ma in realtà di un qualcosa che è successo solo nella mia mente, non tolgo la mano da così perché sta cosa che mi spunta, cioè ma che veramente, comunque è successa nella mia mente perché nella realtà non è successo nulla, salgo a casa di corsa, prendo, prendo, cerco le chiavi della macchina e non ci sono. Dico Silvia ma dove stanno? Magari glielo lasciate giù, scendo giù in garage, non è che non c'erano i chiavi della macchina, non c'era la macchina, sto salita, Silvia mi hanno rubato la macchina, mamma mi hanno rubato la macchina, non posso venire a casa al mare, oddio Silvia aiuto, 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 chiamo papà all'ultimo, papà non puoi capire, mi hanno rubato la macchina, stava sotto casa, ma Giovanna ma che problemi hai? La tua macchina la ho io e i problemi ce l'ho io, vabbè.